Musica Buongiorno ai telespettatori di Rossini TV, benvenuti a Casa Rossini, siamo in diretta come ogni lunedì, mercoledì e venerdì Per cui andiamo subito a dare i nostri contatti che vedete apparire magicamente sullo schermo per mettersi in contatto con noi Potete inviarci dei messaggi, anche vocali, potete inviarci anche dei piccoli filmati al numero di Whatsapp 351 708 9977 Oppure all'indirizzo mail casarossini-rossinitv.it Questa è ormai non più una nuova trasmissione perché siamo all'esordio della terza settimana Ogni volta su questo salotto, sul salotto di Casa Rossini, si siedono ospiti con i quali noi facciamo una bella chiacchierata Però prima, sottolineiamo un po' la giornata, oggi è lunedì 30 novembre Essendo questo un anno bisestile, questo è il 335esimo giorno del calendario gregoriano Mancano 31 giorni alla fine dell'anno, non a caso, insomma è facile, questo è un conteggio facilissimo da fare Il 30 novembre, sul libro Personology al quale attingiamo ogni tanto qualche informazione È definito il giorno dell'attacco calcolato Poi cosa vogliono dire queste definizioni, cosa vogliono dire un giorno, indagheremo un po' di più Intanto diciamo che come festa, oggi è la festa della Toscana E uno dice, vabbè, come mai? È la festa della Toscana perché è in ricordo dell'abolizione della pena di morte Il 30 novembre 1786 da parte del Gran Ducato di Toscana Primo stato al mondo, sottolineo, primo stato al mondo ad abolire la pena di morte Vedete l'imperatore che ha deciso di abolire questa pena Era Leopoldo I d'Asburgo che poi è diventato Leopoldo II come imperatore d'Austria Questa è la dedica in qualche modo della giornata di oggi Mentre per quanto riguarda l'aspetto religioso il giorno è dedicato a Sant'Andrea Apostolo Sant'Andrea è il fratello di San Pietro ed è anche il patrono della Scozia Dunque oggi è anche festa nazionale in Scozia Voi probabilmente conoscete la croce di Sant'Andrea E qui c'è una piccola infografica che spiega come mai la bandiera inglese, la Union Jack È in quel modo perché riassume le tre bandiere La bandiera inglese dell'Inghilterra, la bandiera scozzese e la bandiera dell'Irlanda I tre simboli messi insieme tra cui c'è appunto la croce di Sant'Andrea Il simbolo della bandiera della Scozia, vengono riassunte queste Union Jack che noi conosciamo tutti come la bandiera del Regno Unito dal 1801 E abbiamo anche accantonato l'aspetto del santo del giorno A questo punto andiamo a scoprire cosa è successo il 30 novembre Appunto nel 1786 il Gran Ducato di Toscana è stato il primo stato al mondo ad abolire la pena di morte L'abbiamo già detto nella dedica del giorno Nel 1954 succede un fatto stranissimo In una piccola città dell'Alabama a Silacagua Un meteorite di quasi 4 kg ha perforato il tetto di un'abitazione È entrato nel salotto di una signora che si chiamava Anne Elizabeth Hoggs E l'ha colpita dopo aver rimbalzato sulla radio La signora fortunatamente non ha avuto conseguenze oltre a una ferita superficiale Comunque una ferita importante al fianco E questo è rappresentato come il primo e unico caso in tempi moderni Ci sono stati altri casi nel 1600 meno documentati Di una persona colpita direttamente da un meteorite Per questo motivo la piccola città dell'Alabama Si è meritata una pagina sull'enciclopedia online, su Wikipedia In questo giorno invece i Pink Floyd hanno pubblicato la loro rock opera The Wall È un disco importante nella discografia dei Pink Floyd È stato scelto proprio questo giorno E questo giorno, il 30 novembre, deve essere evidentemente un giorno particolare per la discografia Perché un po' di anni dopo, nel 1982 Nello stesso giorno Michael Jackson ha pubblicato negli Stati Uniti e nel Regno Unito Thriller Thriller è l'album più venduto di tutti i tempi Una stima parla di oltre 100 milioni di copie Nel resto del mondo è stato presentato il 2 dicembre Ma la data ufficiale resta comunque il 30 novembre Il video ufficiale del singolo thriller È un film praticamente, dura 13 minuti Ed è firmato dalla regia di John Landis È stato pubblicato su YouTube naturalmente in tempi molto più recenti Nel 2009 perché prima YouTube non c'era E dal 2009 a oggi ha oltre 700 milioni di visualizzazioni E siccome dura più di 13 minuti appunto il film intero Ne è stata realizzata anche una versione più corta Pubblicata sempre nel 2009 Di visualizzazioni ne conta 125 milioni Tra quelle, qualche altro spezzone Qualche altra pubblicazione Superiamo ampiamente il miliardo di visualizzazioni Per questo singolo Tratto comunque dall'LP Thriller Di Michael Jackson 100 milioni di copie vendute nel mondo Questo è un po' il riassunto di quello che è successo Nella giornata di oggi nel tempo e negli anni Ma oggi oggi, 30 novembre 2020 Invece siamo in diretta in studio E salutiamo il nostro ospite Federico Florio Ciao a tutti Sono molto contento di essere qui Grazie Paolo per l'opportunità Grazie a te, buongiorno E a questo punto facciamo vedere lo studio Perché oggi questa è Casa Rossini Ma possiamo dire che è un po' anche Casa Florio Federico Florio infatti è il titolare Figlio d'arte, poi ne parleremo dopo Ed è il titolare di Garden Center Florio Un'attività importantissima nella nostra città Ma che quest'anno ha aggiunto qualcosa di nuovo E di rilevante a quello che era la sua attività Di florovivaista sostanzialmente Sì, sì esattamente Quest'anno abbiamo completamente rivoluzionato il nostro garden Abbiamo cercato di portare a Pesaro La magia del Natale Soprattutto in un anno non facile come questo Che tutti stiamo vivendo Abbiamo allestito un po' tutto un insieme di scenografie Piccole attrazioni Un ampio showroom natalizio Per dare modo alle persone pesaresi Di vivere comunque in serenità L'atmosfera natalizia I telespettatori conoscono Tutto quello che è stato fatto E la vostra attività Grazie a uno speciale di 15 minuti Realizzato appositamente E che è andato in onda nei giorni scorsi Ma che potete comunque recuperare sempre Ne vediamo in questo momento alcune immagini Recuperare sempre on demand Digitando sul piccolo motore di ricerca interno Del sito www.signitv.it Appunto Garden Center Florio Natale E trovate il filmato E ve lo potete godere Però diciamocelo sinceramente Un conto è vedere le cose in televisione E un conto invece andare a vederle dal vivo Giusto? Assolutamente Sì sì Poi soprattutto per i bambini Che ogni volta Io pensavo che Babbo Natale Sì fosse una figura riconosciuta da loro Ma non pensavo che veramente ci fosse questo Babbo Natale Appena lo vedono È una cosa incredibile proprio È come se vedessero È un'inspiegabile È una magia veramente Che anch'io non pensavo E sono rimasto molto contento Molto sorpreso Poi dopo c'è magari il pony L'animaletti Anche quelli D'esto non ho molte emozioni E poi il presepe Quando si accende poi la macchina spara neve Tutti non capiscono più niente proprio Allora riassumiamo un po' la situazione Perché noi chiaramente Ci entusiasmiamo Andiamo per scontato Tu ci stai vivendo da sempre Ma in particolare in questo periodo Da quando avete aperto Il 24 di ottobre Siamo aperti con Natale Da 24 di ottobre Per cui ci stai vivendo quotidianamente Noi oggi stiamo vivendo un po' l'atmosfera Perché quello che vedete in studio Tutto quello che state vedendo in studio È un allestimento appunto realizzato Venerdì scorso Appositamente per noi Da te praticamente Sì sì Da me mio padre Però diciamo Un conto è viverci come ci vivi te Come stiamo vivendo noi in questo momento E un conto è andarci Ma attenzione Bisogna ricordare bene Che non tutti sanno tutto Per cui facciamo un piccolo riassunto Della situazione Allora dove siete? Sì assolutamente Siamo Garden Center Florio E ci troviamo a Pesaro In Via Lombardia Zona Via Toscana Per intenderci di fronte all'ex matatoio O di fronte al mercato ortofrutticolo Che ci tiene il sabato mattina Della Col di Retti Siamo aperti tutti i giorni Tutti i giorni sarà Natale Ma i weekend sono magici Siamo aperti dalle 8 alle 12.30 Dalle 14.30 alle 19.30 Troverete nel weekend Quindi nel sabato pomeriggio Domenica dalle 10 alle 12 E dalle 15 alle 19.30 Babbo Natale nella sua casetta Che vi aspetta per la letterina O per un disegno O semplicemente per una foto E poi troveremo sempre nel weekend Il pony Che è amico di tutti i bambini Aspetta di essere accarezzato e altro E poi avremo In maniera diciamo sporadica L'accensione di questo Sotto il presepe Diciamo ogni tanto nevicherà Diciamo così Allora tutti elementi di aggregazione E chiaramente in questo momento Va sottolineato che È ovvio State molto attenti A tutto quello che riguarda la sicurezza Sì assolutamente Sì diciamo che tutti gli ingressi Sono contingentati Abbiamo persone Sia al cancello principale Che all'interno poi Deve uscire un natalizzo Che contano continuamente Le persone che sono in ingresso Poi vengono bloccati Contingentati gli ingressi In momenti di massimo flusso All'interno della casetta di Babbo Natale C'è un percorso contingentato Dove prevede L'ingresso di una sola nuclea famigliare Alla volta Il bambino starà a distanza Di un metro da Babbo Natale Che comunque Diciamo tutto diciamo Nel rispetto delle norme C'è un ingresso Sempre contingentato Per quanto riguarda il cavallino Quindi tutto viene fatto Un percorso interno Igenizzanti dappertutto Cerchiamo il più possibile Di mantenere anche noi Le misure Come giusto che sia Abbiamo anche deciso Quest'anno di chiudere Il parcheggio interno Quindi sarà possibile Parcheggiare Di fronte Diciamo al mercato Della Col di Retti In modo tale da lasciare Ampio spazio Anche persone che magari Vogliono semplicemente Fare una foto O passeggiare Quindi è tutto assolutamente Nel rispetto delle norme Questo è essenziale Perché ricordiamo Che è vero Che l'iniziativa nasce Come attrazione Legata anche alla vostra attività Però nasce anche come Magia e basta Cioè Si può anche venire Semplicemente Sì Questa è una cosa Sulla quale noi puntiamo Puntiamo molto Perché comunque Al di là del discorso Attività commerciale Che tanto siamo lì per vendere Questo è chiaro Però Quello che voglio dare Come messaggio È proprio che Le persone possono venire Soprattutto i bambini Passare un pomeriggio Divertente Un pomeriggio spenserato Senza pagare ingresso Senza pagare la foto Come a Buon Natale Non si paga Veramente nulla E poi dopo Se uno vuole Ha la possibilità Di comprare anche All'interno del nostro Showroom natalizio Dove trovi un po' di tutto Per quello che riguarda Decorazione della casa Ma La cosa importante È proprio questo Cioè vivere a Magia del Natale Al di là Del discorso consumistico Che poi tutti conosciamo La reazione della gente A questo problema Del contingentamento Delle code Eccetera Com'è insomma Visto che voi avete Un polso molto diretto Della situazione Tra l'altro facendo Una cosa molto bella Che porta gente Le persone capiscono Comunque Diciamo che gli spazi Sono molto ampi Quindi non si trovano mai File chilometriche O d'altro Però le persone capiscono Rispettano anche Chiaramente tutto va Controllato Quindi servono personale Un po' dappertutto Perché anche i vari percorsi A volte Magari ancora le persone Non sono poi così abituate C'è chi Involontariamente Non rispetta magari Le frecce O d'altro Però Alla fine una volta spiegato Le persone capiscono Questa cosa che dici A parte mi fa molto piacere A livello personale Però è importante Da sottolineare Perché alle volte Leggendo sui social Sentendo qualche Così Qualche critica pesante Qualche sprocchio Sembra di vivere in un mondo Completamente Dominato dall'insofferenza Per queste norme Invece Poi quando ci si cala Nella realtà vera Quella proprio concreta Ci si accorge che Le persone capiscono Apprezzano anche Secondo me La serietà Nel mettere in piedi Queste situazioni Perché tutto sommato Alla fine È vero È un'iniziativa Che ha l'obiettivo Di attrarle dal punto di vista commerciale L'abbiamo detto Lo ripeteremo Però è anche vero Che chi ve lo fa fare Cioè voglio dire E allora se uno lo fa Lo fa anche per essere apprezzato In quello che fa E credo che questo Sia il miglior modo Di ripagare Noi per primi appassionati Del Natale Quindi siamo già Già noi Beneficiamo Federico Figlio d'arte Tra l'altro Io ti volevo solo Dire una cosa Che forse Non sai O forse Sì Non lo so Sono andato a fare una ricerca Sul nome Che è di origine germanica Vuol dire Uomo assai pacifico E devo dire Che ti rispetta abbastanza Sì dai Ti vedo abbastanza pacifico Soprattutto la cosa Che mi ha fatto effetto E qui poi entriamo Nel discorso figlio d'arte È il cognome Perché tutto sommato La prima cosa Che mi era venuta in mente Florio Florio Una specie di nome d'arte Ovviamente Gente che tratta fiori Floricultura Si chiama Florio Invece no È proprio il cognome vostro Sì sì Esatto Esattamente Per cui come dicevano i latini Un destino nel nome Più chiaro di così Possiamo dirlo sì In questo caso nel cognome Chiamandosi Florio Non potevate non fare questo Sì sì Perché al di là del discorso natale Durante l'anno Proprio l'azienda È caratterizzata Dalla produzione E vendita diretta Di tutto quello che riguarda Le piante da balcone Da giardino Quindi noi proprio La nostra La vera natura è questa Diciamo E figlio d'arte Perché in realtà L'ideatore Ma anche presente in azienda In maniera molto Molto netta E guai Chi lo manda via È tuo babbo Franco Sì E insieme a mia mamma Katia anche E tutto diciamo La squadra che abbiamo creato In questi anni Però sì assolutamente Tutto diciamo Parte da loro E anche lui Ha un ruolo Importantissimo In questa proposta Della magia del Natale Sì assolutamente Lui proprio si occupa Della creazione Dei centrotavola Oltre al discorso Dell'allestimento interno Che è stato curato Quasi unicamente Da loro Il discorso Delle centrotavola Delle lanterne Anche qui quest'anno Abbiamo lanciato Un nuovo servizio Che magari Sappiamo che tanti Hanno a casa Delle lanterne vecchie Che non usano Vuote all'interno E si possono tematizzare Per il tema natalizio Quindi adobarle Arricchirle con degli angeli Renne Scoiattoli Pupazzini Si possono tematizzare Con quello che volete Perché le componiamo Proprio noi direttamente E quindi questa è una cosa Da simpatica Per riuscire a creare Atmosfera all'interno della casa E a seguito Anche questa idea Anche questo molto Sì sì Anche addirittura Molte persone Che magari hanno comprato L'anno scorso La lanterna Con l'angelo Quest'anno torno Ma sai Vorrei metterci le palline rose Perché quest'anno va rosa Faccio l'albero rosa Allora le possiamo personalizzare Come preferite Assolutamente Io ho visto questa cosa Magnifica Affascinante Ne abbiamo una anche noi Qua in tv Che sono questi Questi oggetti Con l'acqua Con liquido dentro Sì sì Sarebbero delle Celeberrime Palle di neve Di cui ci sono collezionisti Anche a livello mondiale Che però vengono Reinterpretate In maniera molto Nette e molto decisa Queste hanno novità Proprio degli ultimi anni Sono le lanterne scintillanti Non le abbiamo chiamate Sono proprio Delle lanterne Ma ci sono anche Magari c'è la cabina telefonica Con il Babbo Natale Tanti soggetti C'è un campanile Con una natività O dei coristi E praticamente Hanno all'interno Questo piccolo sistema Che gira l'acqua E in più sono illuminate Di notte Fanno un effetto Veramente molto molto bello Io sono rimasto affascinato Quando sono arrivato Qualche giorno fa Perché La direzione di Rossini TV Se ne ha accapparata una Ovviamente a forma di televisore Che è una roba spettacolosa La pretendo anch'io Adesso Assolutamente Non c'è problema Se una sola cosa metterò Metterò quella Adesso non lo so Perché non sono Un grande fan degli allestimenti Sai perché? Perché poi non ho voglia Di disallestire È proprio la tigristia mia personale Vabbè Sono fatto malissimo Però devo dire Che ogni tanto Qualche bell'oggetto E anche per chi Magari è come me Qualche oggetto Già completo Full optional Praticamente Già pronto Già pronto Non guasta Mi dicevi Che quest'idea Che sembra costruita In qualche modo Apposta Per questo anno Nel quale la gente Sta ovviamente Ragionando Su cosa fare A Natale Nel quale la gente Ha riscoperto Nei mesi Scorsi Il bello Di stare in casa Il bello Anche obbligato Però diciamo La necessità Di stare in casa E di costruirsi Un ambiente Magari più confortevole Del solito Sembra fatta apposta Ma in realtà Non è fatta apposta Perché era già Un progetto Che avevate Sì esatto Allora c'è da dire Che noi abbiamo Un passato Di oltre dieci anni Ormai Nel mondo Dei mercatini Di Natale Abbiamo visitato Un po' tutte Le più grandi Piazze italiane Dal diciamo I mercatini posti Nel Trentino Alto Adige Quindi quelli famosi Del nord Fino anche a Firenze In piazza Santa Croce Quindi una delle piazze Più importanti d'Italia E quindi abbiamo Alle spalle Comunque dieci anni Di campagna acquisti Selezione delle ditte Selezione del materiale Quest'anno Da un anno e mezzo Ormai a questa parte Ci piaceva Il progetto Di portare a Pesaro Un po' Quello che noi facciamo Nei mercatini Quindi abbiamo visionato Tanti Un po' diciamo Tutti i più grandi Garden Che sono posti Nel nord Italia Ci sono delle realtà Veramente molto belle E dei vivai Che si sono poi Rinventati Nel periodo natalizio E creano Delle atmosfere fantastiche E da lì abbiamo capito Che questa cosa Secondo me Si poteva fare Secondo noi Si poteva fare Anche all'interno Da nostra città Che comunque È una città Medio grande E abbiamo cercato Quest'anno Di riportare un po' Questa chiave L'avevate pensata Senza neanche vagamente Immaginare Che cosa poteva succedere Da febbraio in poi Ve la ritrovate Quasi apposta E quasi ad hoc Anche se è vero Che da una parte Diciamo Questo certamente È un anno difficilissimo Dall'altra forse È uno degli anni giusti Per sperimentare Un'iniziativa Di questo genere Che sta portando Giustamente le persone Anche perché Voi fate una proposta Che non ha Diciamo Altri concorrenti In città Perché abbiamo visto Soprattutto da parte Ovviamente Degli enti istituzionali Della pubblica amministrazione Tutto c'è stata La necessità Invece di stoppare Di fermare Anche perché ci sono Altri tipi di impegni Altri tipi di responsabilità Assolutamente Voi ovviamente Essendo sul privato Siete in grado Di definire Contingentare Calibrare Le proposte Nel nostro piccolo Riusciamo a gestire Tutto meglio Chiaramente Come in piazza del popolo È ingestibile La flusso È ingestibile Invece noi Avendo comunque Tutto un luogo Diciamo circoscritto Sì Attraverso tanto personale Riusciamo a gestire Tutto al meglio Sì Naturalmente parte tutto Comunque da un'attività Che si dedica A piante e fiori Per cui anche lì C'è qualcosa Che vi distingue Sì esattamente Noi diciamo un po' La peculiarità Dell'azienda È quella di produrre E poi vendere Direttamente Ciò che andiamo A coltivare Noi direttamente Quindi arrivano In tantissimi casi Piantine molto piccole Che poi andiamo a coltivare Un po' come l'esempio Delle stelle di Natale Che arrivano Nel mese di giugno E quindi si coltivano Da giugno Fino a dicembre Fino a fare Il prodotto finito Quindi gestiamo Tutti i processi produttivi Per esempio Sull'orto invece Noi seminiamo Direttamente Quindi facciamo Campagna acquisti Sui sementi Andiamo a vedere Nei vari campi prova Qual è la semente Che performa meglio Le testiamo Nei nostri orti E poi alla fine Seminiamo direttamente E vendiamo il prodotto finito Questa è una cosa Che accade pochissimo Proprio a livello Non solo della città Ma proprio a livello nazionale È difficile trovare Un rivenditore Che gestisce Anche tutto il processo produttivo Tanto per fare un esempio Mi dicevi che Le stelle di Natale Per esempio Hanno proprio Una particolarità Quella di essere fragilissime Per cui Se non trattate In questo modo In cui le trattate voi Cioè sostanzialmente Allevate da voi Coltivate Allevate È più adatto agli animali Coltivate da voi Direttamente Da quando erano piccole Nei sei mesi Potrebbero rischiare Invece di guastarsi Strada facendo Esatto Il problema dei trasporti Innanzitutto Che su una pianta fragile Come la stella di Natale Potrebbero arrivare rotte E poi c'è proprio il problema Che chiudendolo nel cielo Fan si crea Uno strato di condensa Vicino al fiore E crea proprio queste macchie Sul fiore Che a volte sono visibili Anche quando si trovano Poi nella grande distribuzione Che passano giorni e giorni Giorni nei camion Inoltre c'è anche Il discorso ambientale Comunque che togliamo Camion che circolano Comunque sulle autostrade E sul territorio Considerato poi Che tante piante Arrivano proprio dal mercato olandese Quindi addirittura Prodotto che arriva Da fuori dall'Italia Quindi tantissimi giorni di viaggio Per una cosa Che si può acquistare Prodotto a livello italiano O comunque da noi Nelle nostre strutture E quindi abbiamo Un prodotto più sicuro E riusciamo a gestire Tutto il processo produttivo Quindi se c'è qualcosa Che non va Noi lo sappiamo Abbiamo capito come rimediare Negli anni c'è un processo Di miglioramento del prodotto Passione per il mestiere Torna a questo tema Credo Ogni volta In queste nostre puntate Ed è una cosa Che mi fa molto piacere Pare strano Sembra una selezione a priori Ma in realtà Le persone che stiamo ospitando Qui a Casa Rossini Rivelano tutte Poi alla fine Una grande passione per il mestiere Che è alla fine Come posso dire Il segreto Un segreto da poco Ma è un segreto importante Invece Perché permette Di dare dei risultati Al pubblico Il pubblico che viene E che in questo momento Cosa sta preferendo Federico? Ma guarda Sono rimasto sorpreso Si vende un po' di tutto Diciamo Riusciamo comunque Dall'albero di Natale vero All'albero di Natale finto E poi abbiamo Tutte le varie decorazioni Diciamo gli articoli Sono tantissimi C'è veramente di tutto Per quello che riguarda La decorazione della casa Del balcone E del giardino La cosa che ho notato Con piacere Comunque che le persone Poi che magari Che vengono per Le decorazioni natalizie Acquistano una stella di Natale Acquistano un ciclamino Acquistano una pianta da interno Quindi c'è un po' In generale Anche un ritorno A quello che riguarda La pianta La natura Che abbiamo poi già trovato Nel periodo del lockdown In primavera Dove tante persone Si sono riappassionate E anche adesso Comunque questo è un modo Di attirare le persone In un settore secondo me Che è molto positivo Come quello delle piante O della floricoltura In generale E in questo momento Diciamo Vanno più verso il gadget Verso l'oggetto Oppure c'è un equilibrio Sostanziale C'è un equilibrio Piacciano molto I paesaggi animati Che sono praticamente Christmas Village Si chiamano in inglese Sono tutti questi Diciamo soggetti vari Vari ambientazioni Per creare un po' Possiamo definirlo Un presepe americano Degli anni 50 Dove non abbiamo La classica natività Ma magari c'è Il campanile E poi troviamo Non so Gli sciatori E c'è la montagna Con tutti i sciatori Che scendono Ci sono tantissimi soggetti C'è l'aeroplanino La mongolfiera E quello piace tantissimo Io pensavo i bambini Ma in realtà anche i grandi Quando vedono queste cose Qui ritornano come bambini Ma perché c'è molta gente Come me Credimi C'è molta gente come me Che prende la scatola La porta a casa Poi magari si mette lì A guardarla Gli piace molto La sceglie Ecco li stiamo vedendo Sono delle ambientazioni Fantastiche proprio Ecco qui vediamo I pattinatori sul ghiaccio Sono cose molto piacevoli Poi una volta finito Quello è facile da mettere via Esattamente La cosa bella Diciamo un po' La leggenda È che in America Tutte queste persone Costruiscono questi piccoli paesini Villaggetti Ogni anno Lo vai a arricchire Con quello che magari Ti regalano anche i tuoi amici Quindi c'è un po' L'usanza di Chi ha un villaggio grande Vuol dire che ha tanti amici Quindi ha tante conoscenze E viene apprezzato dalla comunità Quindi ci creano poi negli anni Dei contesti bellissimi E molto molto di impatto Per cui è un'idea anche Regalo non solo di per sé Ma che va a costruire Se sapete di qualche amico Che sta cominciando E che naturalmente Abbia un po' di spazio Perché sicuramente Forse l'unica piccola Contraindicazione che c'è Nell'immaginarsi Un'espansione a dismisura È che ci vuole un po' di posto Si può fare anche Cosine piccolissime Si parte da piccole cose Poi magari se volete allargare Avete un coffee shop lì Che è il più piccolo Per esempio Ci sono anche tutti i prezzi Quello lì mi pare di ricordare Siamo intorno agli 8 euro Quindi partono da poco E dopo ci sono anche prezzi più grandi Da collezione Ma in generale Sono prezzi comunque umani Rispetto anche a tante altre Diciamo aziende Ne abbiamo cercato di selezionare Comunque dei produttori Che abbiano dei prezzi molto competitivi Mi hai anticipato Perché era questo proprio Che ti chiedevo Anche perché Naturalmente noi ci rivolgiamo A un pubblico a casa Che è affascinato Dalle immagini E da tutto Però a un certo punto Deve mettere mano Al portafoglio in questo momento Speciale Questo è importante Noi diciamo Abbiamo questo passato Dei mercatini Quindi negli anni Abbiamo selezionato Tanto le aziende Sia a livello nazionale Che a livello internazionale Partecipiamo ogni anno A fiere come Francoforte Dove abbiamo A disposizione Tantissima scelta E riusciamo a Prendere un po' il buono Da ogni azienda Forte Che poi Sono diciamo Mondiali Abbiamo aziende olandesi Dal Belgio Abbiamo aziende un po' Anche italiane E lì riusciamo A fare una campagna acquisti Molto mirata E portare un prodotto Che sì deve essere bello Ma deve essere anche competitivo E riuscire a essere comprato Perché è inutile Che un oggetto sia bello E poi le persone Non riescono a comprarlo Perché ha dei prezzi Fuori di testa Quindi questo per noi È molto importante Nei giorni scorsi Abbiamo ospitato Un'amica Che potremmo definire Concorrente Ma diciamo che Diciamo collega Sì assolutamente Con piacere Con la quale abbiamo parlato Un po' dell'annoso Dell'annosa diatriba Albero di Natale Vero O albero di Natale Quello che abbiamo deciso Di chiamare sintetico E non ecologico Perché se chiami ecologico Quello di plastica Dopo sembra che l'altro Sia anti-ecologico Invece in realtà Abbiamo fatto un po' Sto ragionamento Voi sposate questa teoria Che sono entrambi Comunque validi Entrambi proponibili Entrambi ecologici Sì sì I nostri alberi veri Li andiamo a prendere direttamente L'apennino toscano E anche oggi Stiamo gestendo un riordine Sono zollati con delle radici Allora non riusciamo a garantire Il risultato Che poi l'albero Prenda a techisca Perché vengono presi Con delle macchine Che si chiamano zollatrici Quindi a volte possono recidere Delle radici primarie A volte meno Però tendenzialmente Tendono a prendere poi bene Anche un olio Li può piantare nel balcone Nel giardino Ci sono tanti alberi Che si possono ripiantare Quindi Diciamo interessante l'idea Di tenerlo dentro casa Per un mese Ci fa Bello Natale Ma poi abbiamo la possibilità Di utilizzarlo anche fuori E riciclarlo Diciamo Per cui Anche da parte vostra L'input è Scegliete quello che preferite Assolutamente In ogni caso Non ce n'è uno meglio dell'altro Né dal punto di vista Della resa Perché le rese sono entrambe Sì Dipende molto anche dal gusto personale Alcune persone amano I nuovi sintetici Hanno tutte queste caratteristiche Addirittura Di avere Già l'allestimento incorporato E cose del genere Quello vero Profuma anche probabilmente Profumo di pino Esatto Per cui scegliete quello che preferite E sappiate che qualunque scelta Comunque non incide in maniera particolare Né in positivo né in negativo Sull'ecologia del mondo Perché da una parte abbiamo Una produzione sintetica Di plastica E comunque di materiali sintetici Che chiaramente richiede Dei costi industriali In termini di impatto energetico Dall'impatto ecologico Dall'altra abbiamo questo fatto Di andare a tagliare O comunque in questo caso Non a tagliare In questo caso viene zolato con la radice Quindi in tanti casi Comunque riesce a Lo riusciamo a mantenere Anche poi dopo Negli anni cresce Quindi rimane anche a ricordo Magari di un Natale O di un regalo Che potrebbe anche essere E ricordiamo Per chi non avesse visto L'altra puntata Che comunque il ragionamento è Sono alberi Che hanno avuto Già una loro vita Che ha fatto Il loro lavoro di albero Nel senso che Hanno 5-6 anni di età Anche più E che sono stati Piantati appositamente Assolutamente Non si va a disboscare Con un'idea Di magari che ne so Poi dopo Una volta disboscato Incendiare tutto Per dire Si va a disboscare Ma in realtà Non si disbosca niente Perché poi vengono ripiantati Ed è un'attività Di produzione Che comunque Fa anche bene Comunque all'ambiente Perché questo è Nell'ordine naturale Delle cose Ecco Sì assolutamente Poi per questo Abbiamo anche scelto Di cercare Di trovare Un produttore Che sia italiano Proprio qui vicino Un paio d'ore di macchina E andiamo noi personalmente A prendere il materiale E quindi cerchiamo anche Di far crescere Il mercato locale Federico È stato veramente Molto piacevole Stare con te A casa Rossini Ma anche In qualche modo A casa tua Perché ricordiamo Che l'allestimento Che avete visto E che ci ha accompagnato E che ci accompagnerà Anche Nelle prossime puntate È un allestimento Curato da Garden Center Florio Con alcuni Pochi Degli elementi Che sono a disposizione E che vi invitiamo Ad andare a scoprire A questo punto Ricordando ancora una volta Di diritto e gli orari Assolutamente Vi aspetto Da Garden Center Florio In Via Lombardia Zona Via Toscana Di fronte al mercato Ortofrutticolo Del sabato mattina Della Col di Retti O di fronte all'ex matatoio Adesso non so come meglio Lo conoscete Siamo aperti tutti i giorni Tutti i giorni sarà Natale Ma i weekend saranno magici I nostri orari Sono dalle 8 Alle 12.30 Dalle 14.30 Alle 19 Nei weekend Inoltre vi aspetterà Babbo Natale Poi ci sarà il Poni Ci saranno tante attrazioni Potrebbe nevicare Quindi portatevi Di la letterina E niente Vi aspettiamo E probabilmente Ci incontreremo anche Perché io un salto Lo farò sicuramente Adesso ci fermiamo Per la pubblicità Alla ripresa Una piccola sorpresa Perché il prossimo ospite Che è il segretario Provinciale CNA Moreno Bordoni Sarà intervistato Dalla nostra direttrice Emanuela Rossi Eccoci tornati in diretta Buona giornata Ben ritrovati A Casa Rossini Intanto ringrazio La nostra ascoltatrice Che ha fatto Questa bellissima dedica E ringrazio anche Paolo Per avermi concesso Questo spazio In questo nostro salotto Quotidiano Sono qui adesso Perché ho il piacere Di avere qui con noi Nella nostra Casa Rossini Il segretario provinciale Della CNA Moreno Bordoni Benvenuto Moreno Grazie per il gentile invito E' sempre un piacere Piacere nostro Poi hai visto tutto quel set Allestito a Natale Bello bello Molto Una bella atmosfera Ecco C'è tanto cuore Tanta passione Già si vede Appena si entra Di essere ben accolti Benissimo Allora Moreno Intanto ti chiedo di Abbiamo forse dalla regia Di parlare col microfono vicino Giusto? Il guarda E' acceso? Mi dite dalla regia Ok perfetto Allora io vorrei partire Moreno Subito con questo articolo Che è uscito ieri Sul resto del Carlino In cui si parla Dell'opera di monitoraggio Sul territorio Avviata grazie a Master Quality Che cos'è esattamente Come sta funzionando? Sì come CNA di Peso Urbino Già da qualche mese Stiamo monitorando Davvero molto da vicino La situazione della pandemia Nei luoghi di lavoro Abbiamo iniziato Qualche mese fa A maggio Con tanti test Sierologici Che in collaborazione Con la regione Marche Che ha fatto una delibera Abbiamo potuto fare Davvero uno screening Molto interessante Sui luoghi di lavoro Abbiamo voluto vedere Quanto il luogo di lavoro E soprattutto le misure sanitarie Che i nostri Ovviamente imprenditori Mettono in essere Possano essere adeguate Alla situazione Questo l'abbiamo fatto Negli scorsi mesi Abbiamo continuato Questa attività E ultimamente Visto che c'è la possibilità Anche di fare i tamponi veloci I famosi tamponi antigenici Con questa possibilità Abbiamo duplicato Quindi gli screening Che stiamo facendo Presso le aziende Devo dire la verità Che questo ha due Importanti obiettivi Il primo ovviamente Di vedere Come tutte le misure sanitarie Messe in campo Anche della regione Mar Che abbiano o meno Una risultanza importante Nel luogo del lavoro E il secondo Dare sicurezza Ai nostri imprenditori Che ovviamente Vogliono lavorare Far lavorare I propri dipendenti Nella massima certezza Nella massima sicurezza Per loro e per le famiglie Devo dirti alla fine Che soltanto Neanche il 5% Di tutti i test Che abbiamo fatto Hanno poi scovato Degli asintomatici E quindi dei positivi Al test per il Covid-19 Quindi siamo molto soddisfatti Continuiamo questa opera Perché per noi È molto molto importante Molto importante Per le aziende Chiaramente per ritornare E comunque continuare A lavorare Sempre in massima sicurezza Allora andiamo a parlare Di aziende Moreno perché tu le conosci Da vicino La CNA è sempre vicina Alle aziende Del nostro territorio Gli artigiani E allora parlando Con te Proprio in questi giorni Hai sollevato Questa questione Molto interessante Cioè tutte quelle aziende Del nostro territorio Che negli ultimi anni Hanno incrementato Il loro fatturato Grazie all'export Grazie ai grandi collegamenti Che hanno E le vendite Che hanno nel mondo In questo periodo Di emergenza sanitaria Si sono trovati davvero Fermi Pensiamo agli artigiani Ad esempio Del mobile Del settore dell'arredo Che praticamente Si sono visti Chiusi mercati esteri Ecco Cosa è successo esattamente Come avete vissuto Anche voi Della CNA A questo momento Questa è una situazione Molto importante E delicata Perché hai detto bene tu Negli ultimi anni Gli unici dati positivi Del nostro territorio Della nostra provincia Ma in generale Anche della nostra regione Rispetto ai dati economici Erano quelli riguardanti L'export Noi siamo una provincia In cui gli imprenditori Hanno avuto nel tempo E negli ultimi anni Una grande capacità Di riorganizzare Le proprie aziende Di conquistare Mercati internazionali E soprattutto Nelle attività Manifatturiere Quelle che hanno Trainato davvero Il nostro territorio Penso alla meccanica Penso al mobile Penso all'arredamento Chi fa dell'export Fa la differenza E poi traina tutto un indotto Consideriamo che In questo momento Nel mondo Se prima viaggiavano Quattro aerei Adesso ne viaggia uno solo Tutte le più grandi Fiere internazionali Sono state cancellate Da qui alla metà Del prossimo anno Quindi non c'è più Possibilità di Andare a visitare I propri clienti Fidelizzarli E trovarli dei nuovi Quindi questa È una situazione Molto molto Difficile Che è un po' sottovalutata Perché? Perché pensiamo Sempre giustamente Ai problemi Del ristoratore Piuttosto che del barista Piuttosto di chi fa Turismo E ci sta È vero Ma ci sono anche Tante problematiche Che riguardano Quella che è Diciamo così Un po' La vocazione Dell'economia Del nostro territorio Queste aziende Se non riescono Ad andare all'estero Non riescono Ad andare alle fiere Non riescono A trovare anche Nuovi clienti Nei prossimi mesi Ovviamente Avranno delle grossissime Preoccupazioni Che ovviamente Poi dopo Andranno a calarsi Anche sulle Sui dipendenti Sui consumi Sul welfare Quindi bisogna stare Molto attenti Noi come abbiamo Cercato di Risolvere Parzialmente Questo problema Si sta lavorando Molto Con i webinar online Si stanno inventando Ce ne erano anche prima Ma adesso Sempre più Importanti Sono le fiere Digitali B2B digitali Cioè si cerca di Lavorare su piattaforme Digitali Sempre più perfezionate Per Non dico risolvere Questo problema Che è molto Difficile Però almeno Cercare di trovare Delle situazioni Che possono alleggerire Questa situazione Così pesante Ecco ma adesso Il prossimo anno Le fiere Alcune saranno garantite Altre no Ripartiranno Perché le fiere Sono davvero Dei momenti Di grande Importanza Di incontro Di grande business Come si farà Il prossimo anno Se non riprenderanno Ripartiranno le fiere Questa è una bellissima domanda Per il momento La prima metà dell'anno Non ci saranno fiere Non ci saranno fiere In presenza Sono previste Per la seconda metà dell'anno Da settembre Ottobre Alcune fiere importanti Come la big five Di Dubai Molto importante Per il settore Meccanica edilizia Il crocus Di mosca Però parliamo Della seconda parte Dell'anno Parliamo da settembre Ottobre novembre Per la prima parte Dell'anno Ancora è previsto Tutto a livello Digitale E non ci sono certezze Poi stiamo parlando Scommettendo sul fatto Che a livello dell'anno Ci sarà Questo benedetto vaccino Perché altrimenti Se i tempi Dovessero dilatarsi Probabilmente Ci rischia Qualche altro rinvio O purtroppo Come è stato fatto Quest'anno Qualche cancellazione Che sarebbe Davvero molto dolorosa Per gli imprenditori Moreno Bordoni Forse qualcuno Ancora non lo sa E' anche presidente Presidente della nuova Azienda speciale Mobile e meccanica Della Camera Di commercio Delle Marche Mobile L'abbiamo detto E meccanica Ecco in questo caso Quali sono le azioni Che si stanno portando avanti Innanzitutto Con orgoglio Dico che Abbiamo anche dato Un nome All'azienda speciale Di questi giorni Il fatto che Quest'azienda speciale Della Camera di commercio Delle Marche Che si occupa Di mobile e meccanica Si chiama Tecne Ok Questo non l'avevo ancora visto Perché si è deciso Dalle aziende speciali Che sono La Tecne Per il mobile e la meccanica L'Infa Per quello che riguarda L'agroalimentare E l'Inea Per quello che riguarda La moda Sono state scelte Dopo degli studi Dei nomi di Derivazione greca Tutti declinati al femminile Un bello studio C'è dietro Dietro i nomi E quindi Voi siete i primi A cui ufficialmente Allora non è una mia pecca Che non scrivo ancora il nome No perché questo è uno scoop Che vi do proprio Per Rossini TV È la prima volta Che ufficialmente Lo diciamo In una televisione Ma anche Alla stampa in generale Quindi ecco È il mio regalo Per questa presenza E noi cosa abbiamo fatto In questi mesi Abbiamo cercato Di organizzare A spese ovviamente Dell'azienda speciale Dei webinar tematici Ne abbiamo fatti Sei per il legno arredo E quattro per la meccanica E ci siamo rivolti Al mondo Dell'ex Unione Sovietica Un mercato sconfinato Che ha avuto però Dei grossi cali Per quello che riguarda L'import e l'export Con la nostra regione Per questo abbiamo deciso Di intervenire su quei mercati Abbiamo fatto dei webinar Proprio dedicate alle aziende Per fidelizzare I vecchi clienti Per trovarne di noi Ma soprattutto anche Gli abbiamo dato Un'impostazione Molto molto pratica Abbiamo insegnato Ai nostri imprenditori Soprattutto a quelli che Non erano così Presenti in quei mercati Come utilizzare i social In quei paesi Completamente In maniera diversa Da quello che noi siamo abituati Qui nel nostro paese Abbiamo cercato di Parlare con l'influencer Di quei paesi Per capire come vedono loro I nostri prodotti Come noi dobbiamo Essere capaci Di raccontarli I nostri prodotti Perché è molto importante Lo storytelling È molto importante Il know-how Che ha radici lontane Che ci caratterizza E questo spesso Fa la differenza Tra un prodotto Made in Italy E un prodotto Di altri paesi Quindi abbiamo Fatto una bella opera Di informazione E anche di formazione I nostri imprenditori Che continuerà anche Nei prossimi mesi Nei prossimi mesi Perché la prima parte Dell'anno Visto che Come dicevamo prima Le fiere in presenza Non ci saranno Noi faremo questa Importante attività Tra l'altro Moreno ha un ruolo Insomma Internazionale Relativo proprio Alla Bielorussia E lì com'è La situazione La situazione In Belorussia È molto delicata Io da 4 anni Sono il rappresentante In Italia Della Camera di Commercio Dell'Industria Nazionale Belorussa E in questo periodo Sia per la situazione Del Covid Belorussia è stata L'unico paese Penso al mondo Che non ha chiuso nulla Quindi ci sono stati Dei problemi importanti In più In più ovviamente Tutte le situazioni Riguardanti al rinnovo Del presidente Lukashenko Ci sono tuttora Delle manifestazioni Quindi la situazione È molto molto delicata In questi mesi Appunto per questa Duplice situazione Ho svolto il mio compito Con la Camera di Commercio Belorussa Molto In maniera digitale Abbiamo organizzato Dei webinar Con imprenditori italiani Della regione Marche Soprattutto Ma anche con la regione Abruzzo Con la quale stiamo Collaborando molto bene Per la Bielorussia E abbiamo cercato Di mantenere i contatti Tra imprenditori Bielorussi Ma non solo Bielorussi Di tutta l'unione Dovanale Eurasiatica Perché la Bielorussia Insieme alla Russia Al Kazakistan All'Armenia All'Kirghigistan Fa parte di un enorme Mondo economico Che è l'unione Dovanale Eurasiatica Abbiamo cercato Di mantenere questi contatti Abbiamo fatto anche Dei webinar internazionali Con tutti quelli Che hanno il mio ruolo Dato dal governo Bielorusso Ovviamente in giro Per il mondo Per cercare di capire Come al di là Di questi grossi problemi Che ha il paese Mantenere comunque Viva l'economia Perché noi parliamo Di imprenditori Gli imprenditori Sono in tutto il mondo Interessati al business E cerchiamo comunque Di andare avanti E di mantenere saldo Il nostro rapporto Perché appena si potrà Di nuovo Lavorare come prima Noi saremo pronti A dare il nostro contributo Complimenti per quello Che fate costantemente Per le aziende Del nostro territorio E non solo Adesso chiudiamo Questo nostro spazio Moreno Parlando di una tua Grande passione Tra l'altro Siamo proprio freschi Di una notizia Fantastica Che ci arriva Proprio in questo Fine settimana Perché la passione È anche la mia Stiamo parlando Dell'Ital Service Calcio a 5 La Champions Che c'è stata appunto In diretta In questo fine settimana Che ha visto Un risultato Strepitoso L'Ital Service È passata Contro Tito Grad Allora Cosa hai guardato Chiaramente Eravamo in diretta Su Rossini TV Sì Innanzitutto Una passione Che nasce da qualche anno Che condivido Con la mia famiglia Soprattutto con mio figlio E che ha un po' Così Catalizzato Il mio tempo libero Perché È stata Una bellissima Situazione Che sono riuscito A vivere Con tutta la famiglia Questo è importante Per chi fa un lavoro Come il mio Il tempo non è mai tanto E quindi poter condividere Con la famiglia Questa passione Mi è davvero Riempito il cuore Ovviamente L'Ital Service Pesaro Calcio a 5 Con grande orgoglio Rappresenta Pesaro Nella più grande Palcoscenico internazionale Di Fuzzal Abbiamo vinto 6 a 0 Fuori casa In Montenegro Con il Tito Grad Non era una cosa scontata Perché In Europa In tutti gli sport Quando si parla di Champions League Si parla dei massimi livelli Quindi Riuscire a Vincere una partita Poi giocata perfettamente Dall'inizio alla fine Subito in vantaggio Poi Insomma Vincere 6 a 0 Non è Non è facile Mi ha dato una bella gioia Ero proprio Collegato su Rossini TV Insieme alla famiglia Nel salotto di casa Tifavamo E speravamo appunto Che questa partita Potesse andare bene Perché io penso Sia un orgoglio Sia un orgoglio Non soltanto per i tifosi Dell'Ital Service Ma per tutti i pesaresi Perché ormai erano un po' Troppi anni No? Che Pesaro sportiva Non poteva Insomma Freggiarsi Della Della Coppa dei Campioni Quella volta Ricordo la Scavolini Nel basket Ricordo Anche Io Andavo a vedere Anche il volley femminile Sempre la Scavolini In Champions League Insomma Situazioni belle Per la nostra città Che valorizzano Il fatto che Pesaro È anche città dello sport E penso che in questo momento Bisogna essere orgogliosi Di avere l'Ital Service Qui stiamo vedendo Una sintesi Alcuni pezzi Della partita Andata in onda Appunto Nel weekend Però Quello che fa Un po' tristezza È vedere questi stadi Questi palazzi Completamente vuoti Quando Si potrà ritornare A vedere Le nostre squadre Fai una valutazione Una domanda difficile Moreno Difficile Anche perché poi Fatta uno sportivo Come me Che soffre enormemente Di questa situazione Lo sport Per me Lo sport è dei tifosi E del pubblico È un fatto È vero Che è anche un business Ma è un fatto Molto emozionale Passionale Quindi Vedere Nel calcio Nel calcio a 5 Nel volley Nel basket Questi impianti Bellissimi Completamente vuoti È davvero Una ferita al cuore Io spero Che il più presto possibile E penso Non prima Del fatto Che arriverà Questo vaccino Immagino Si possa riaprire Al pubblico Perché il pubblico Si deve riappropriare Della passione sportiva Che è il volano vero Del fatto che lo sport Poi dopo diventa Anche un momento Economico importante Nel nostro paese Assolutamente Biglietti Tantissime famiglie Non pensiamo soltanto Ai grandi campioni Internazionali Ma tantissime famiglie Vivono dietro lo sport E io mi auguro Che al più presto Possiamo ritornare A goderci davvero Questa passione Come tutti meritiamo Benissimo Adesso Moreno Se Paolo è pronto Lo vedo già qui Si continua a parlare Di sport Vero Paolo? Ecco Prego Accomodati Questo è il tuo salotto Io adesso me ne vado Si continua a parlare Di sport Hai un ospite importante Un ospite molto importante Un ospite che ho voluto molto Mi giro verso le telecamere Anzi Verso la mia Quella là Un ospite che ho voluto molto E vedrai che ho fatto bene A portarlo qua Perché ha tante cose belle E positive da raccontarci Allora Moreno Noi andiamo Grazie mille Noi vi salutiamo Grazie a voi per il gentile invito È stato un piacere Alla prossima ci rivedremo sicuramente Moreno Arrivederci anche a voi Arrivederci a tutti Grazie E sempre questa cosa Questi balletti delle distanze Sono sempre un po' complicati Però accogliamo con noi Enrico Tiberi Al quale chiediamo di sedersi Al centro esatto Per l'inquadratura Perfetto E siamo ritornati Nel nostro salotto Con Enrico Qualcuno forse Potrà già avere Visto qualche cosa Di Enrico Perché è stato protagonista Di un nostro speciale Ed è lì che io l'ho conosciuto Però voglio fare una piccola premessa Quando abbiamo iniziato A ragionare Di questa trasmissione Di questo programma Con gli ospiti Abbiamo cominciato anche a pensare A chi potesse essere Un ospite giusto Da invitare E io devo dire la verità Ero reduce da pochi giorni Appunto Dall'aver conosciuto Enrico Tiberi Perché l'ho intervistato In occasione dello speciale Realizzato quando lui ha fatto L'impresa E poi diremo fra un po' Qual è E ho pensato veramente Subito a lui Perché è proprio Come posso dire L'archetipo perfetto Dell'ospite di questa trasmissione Viene a raccontarci Qualcosa di straordinario Che ha fatto lui In prima persona Viene qua E ce lo racconta E ci dice Che si può fare E questa è la parte Quella speciale Allora Enrico E qui con noi Perché Io quando me lo sono segnato Record man Lui al telefono No troppo Perché è anche molto modesto In realtà Lui è un record man È un record man Perché è uno Dei dieci Atleti Al mondo Ad aver realizzato Una cosa Che si chiama Everesting In due modalità diverse In bicicletta E a piedi Nell'arco di un periodo Di tre mesi Se non sbaglio Ti do la parola Perché se no Pensano solo Che ti ho messo lì A fare da sfondo Enrico Buongiorno Buongiorno Intanto ringrazio te Paolo per l'invito Per me è un grosso piacere Sì In cento e tredici giorni Ho fatto un Everesting A piedi Sul Monte Petrano E poi il 3-4 ottobre Sulla Suo auditore L'Everesting In bicicletta Passando gli 8.848 metri Mi sono aggiudicato Il decimo posto Tra le dieci persone Al mondo Perché Aver fatto 10.000 metri Di dislivello Positivo Allora Spieghiamo Diamo le coordinate A chi ci ascolta Perché non tutti Ovviamente sono Esperti E non tutti Conoscono esattamente Di cosa stiamo parlando Allora Everesting Notate Dentro la parola Everesting C'è la parola Everest L'Everest è la cima più alta del mondo 8.848 metri Come vedete Nella foto E l'idea Venuta a non so chi Devo dire la verità Poi se tu lo sai Me lo dirai Venuta a non so chi È questa Focalizzarsi su un dislivello Vicino a casa Facilmente riconducibile Riconoscibile E identificabile E in questo dislivello Decidere di percorrere Questa salita E di conseguenza discesa Talmente tante volte Da assommare Compressivamente Un dislivello positivo Per cui si conta solo La parte della salita Sostanzialmente Pari o superiore Agli 8.848 metri Questo ovviamente Facendolo di seguito Si può fare A piedi O in bicicletta Giusto? Ci sono altri mezzi In cui No A piedi in bicicletta E tu l'hai fatto In tutti e due In tutti e due I modi E questo fa di te Uno dei appunto Dei dieci Uno dei primi dieci Il decimo al mondo Esatto E' un'impresa Non da poco Che è resa possibile Soprattutto Oltre che dall'impegno Di chi partecipa Anche dalla tecnologia Che permette Di tracciare E di non barare Per intenderci Perché praticamente Come funziona? Alla vicino col microfono Che sennò I telefattori non ti sentono Quando si viene Cioè Scusa Quando si decide Di fare questo Everesting Si manda Una richiesta Direttamente A Australia E in Italia E tramite Una traccia Strava Che viene presa Tra un GPS E si Si deve Dire Diciamo La traccia Che uno vuol fare La salita Che uno vuole Indicare Questa salita Viene tracciata Per cui Non ci sono Diciamo Non si può barare Nel momento Che uno inizia L'impresa Si collega Col GPS E poi Durante Tutta l'impresa Può fare giustamente Le soste Per mangiare E poi Finita l'impresa Si collega Si blocca La traccia Si manda Anche tramite Strava Si manda Tutto In Australia E poi Anni circa Dopo una settimana Se tutto Rientra Diciamo Delle regole Si ha La convalida La convalida La certificazione Perché ricordiamo Che oltre Al dislivello Calibrato Calcolato Eccetera C'è anche un controllo Cardio Per cui Questo è la prova Del nove In qualche modo Perché altrimenti Uno dice Vabbè Io ti dico il dislivello Poi vado con la macchina Vado piano Come se andassi in bicicletta Però se vado con la macchina Il mio cuore batte In maniera molto diversa E a piedi C'è solo quello Cardio Invece in bicicletta Chi è che ce l'ha Ad esempio Ce l'ho Il potenziometro Per cui Nello stesso istante Hai il tuo cuore E la potenza Che stai esprimendo Sui pedali Per cui Barare è quasi Impossibile Ecco Non Naturalmente È una di quelle situazioni Nelle quali La tecnologia Aiuta Non solo A sostenere Un'iniziativa Ma la crea Perché senza Questo apporto Della tecnologia Un'impresa come questa Sarebbe impossibile Rientreremmo In un ambito Di Guinness Dei primati Nel quale ci vorrebbero I certificatori I giudici E tutto Invece Adesso tutto questo Viene Tranquillamente bypassato E Mi raccontavi Che In realtà La tua idea originaria Era quella Di fare solo Quello a piedi Ricordiamo che Quello a piedi Era sul Monte Petrano Sul Monte Petrano Si è tenuto a giugno Il 12-13 giugno 12-13 giugno Notare che sono sempre due le date Ma non è un errore Oppure un'approssimazione È perché ci vuole molto tempo Per fare questa cosa Ci vuole A quella a piedi Quanto ci hai impiegato 27 ore 27 ore Nelle quali uno va su E poi dice Ok adesso torno giù Che poi quella a piedi Secondo me Non so perché Ma mi fa che È più faticosa ancora Perché c'è questa idea Che quando torni giù Non è che ti riposi No assolutamente Con la bici Bene o male Quando torni giù in discesa Adesso non è proprio Rose e fiori Perché bisogna starci un po' attenti Però con la bici È il momento Sicuramente E invece a piedi Quando vai su Fatichi perché stai andando su Quando torni giù Fatichi ancora di più Anzi Assolutamente Io ho una frequentazione Un po' Lontana ma vicina Con il mondo delle imprese estreme Perché mio fratello Andrea È uno che prende ogni tanto Qualche idea E la porta avanti Ha fatto 100 km Facendo 250 giri Del campo scuola Qua in via Cimarosa In 24 ore Per cui capisco Diciamo In maniera un po' Laterale Quella che può essere L'impostazione mentale E il senso Dell'impresa Per cui Diciamo Ti viene in mente Questa cosa Tra l'altro Cerchi una codifica ufficiale Ti scrivi E fai questo Everest thing E lo fai A giugno A giugno Dopodiché Mi dicevi che Basta Per te andava bene così Dopodiché Avevo deciso Di prendermi una pausa Perché fisicamente È stata impegnativa Come cosa Per cui a giugno Ho ripreso la bicicletta Per divertirmi Ecco Poi dopo La gran passione Per fare Per fare le salite In bicicletta Mi ero messo Ho iniziato Tutti i giorni A fare Le salite Attorno a casa Ecco A me la pienura Non piace Per cui Passavo il tempo lì Poi all'improvviso Tramite un mio amico Maurizio Radi Della Fisio Radi Mi ha contattato Perché voleva capire Cosa stavo Avendo in mente Ecco E mi ha chiesto Che se avevo in mente Di fare un Everest thing O qualcosa In bicicletta Mi avrebbe dato una mano E così è stato E da lì è iniziata Questa cosa Tra l'altro Noi abbiamo conosciuto Appunto Enrico e la sua impresa Proprio grazie a Maurizio Radi Che è un grande amico Di Rossini TV E che in questo caso Insomma Ha fatto da radar Era lì che cercava Scandagliava L'ambito locale Per trovare qualcosa Nel quale cimentarsi Anche lui Come organizzatore Perché ti ha dato Tutto un sostegno E tutta un'organizzazione Però io adesso Vorrei fare un passo indietro Prima Perché poi Quando entriamo Nella logica Dell'Everest thing In bicicletta Dobbiamo raccontare L'episodio Di Urbino E allora Prima di arrivare Da quello Io vorrei fare un passo indietro Perché tu Che di mestiere Fai altro Naturalmente Pochi credo Possano essere Avere la possibilità Di vivere Di queste attività È un po' come Io che mi diverto A scribacchiare Ma poi Vivere di scrittura È un'altra cosa E immagino Che sia lo stesso Anche nello sport Tu in realtà Hai un'altra attività No? Sì Ho un consorzio di famiglia Dove gestisco Io e mia madre Per cui È vero Che ho anche Molto tempo libero Ma è anche vero Che magari Quando la gente Pensava Sempre in bicicletta O è a correre a piedi Alla mattina Per me Tutte le mattine La sveglia Dalle 4 Alle 4 e mezza Per cui Ci sono tanti sacrifici A monte Che magari La gente Non conosce Sembra tutto facile Gli occhi di tutti È diventato uno stile di vita Non è più un peso Voglio dire Però capisco anche Che magari Chi mi vede Tutti i giorni in bicicletta Pensa che non faccia Che non stia facendo niente Ecco come lavoro E non solo Ma chi non ti vede Da un po' Potrebbe avere Grosse difficoltà A riconoscerti Giusto? Abbiamo delle foto Che adesso chiedo alla regia Le prime foto Di un Enrico Irriconoscibile Ecco Abbiamo delle foto Di Enrico Irriconoscibile In che anni era questo? Questa foto qua Avevo 20 anni In circa 19-20 21 anni Per cui siamo? Ne ho 36 Siamo insomma 15 anni Così io passo Dallo steglio Ecco Mio padre Che purtroppo Non c'è più Enrico Insomma A 20 anni Aveva altri problemi Per la testa Insomma Grossi problemi Diciamo Veramente grossi Posso chiederti La bilancia Cosa ti diceva? Ma io penso Cioè Quando mi si è fermata La bilancia Diciamo Ero 135 Ma gli abbiamo passati 135 138 Però Però erano grossi problemi Che Adesso sicuramente Rido Cioè Di questa cosa Ci rido anche Però erano Forse Questi problemi Mi hanno anche aiutato Adesso Nelle mie imprese Perché mi hanno dato Una gran forza Di Mentale Di volontà Perché tutte le volte Se penso a tutto Quello che ho passato Tra Dimagrire Vari problemi D'alimentazione La morte di mio padre Comunque sia Sono cose che Formano il carattere E Mentalmente Ti danno una forza Che forse Non Non tutti hanno Ecco E' uno step in più Che tutte le mattine Magari Come tutti Capita Quella mattina Che magari Non hai voglia Di fare tante cose Di andare a lavorare Oppure anche Nello sport Che non hai voglia Di allenarti Come ieri Che pioveva Pensi sempre Io penso Sempre da dove Sono venuto Tra virgolette E E mi prende voglia Di partire Dico Cioè Non mi posso Fermare Ecco Non mi sono fermato Nelle vere Cioè Quando la vita Mi ha messo davanti A dei grossi ostacoli Per cui Non può essere Nella pioggia Nel vento Nella neve Che mi ferma Allenarmi O comunque sia Nel mio progetto Che sia di lavoro O sia Nell'ambito sportivo C'è stato prima Il lavoro Sul Sul Fisico E sul Rimettersi in forma O è cominciato Lo sport In quel momento Che ti ha aiutato Ma io Paolo Ti devo dire la verità Ricordo benissimo Il giorno E la mattina Come fosse ora Quando nella mia mente È comparso Diciamo Un attimo Di dire Mi sono fermato Mi sono guardato Allo specchio Come tutte le mattine Anzi Non mi guardavo Neanche più Allo specchio Perché è brutto dirlo Ma a un certo punto Ti fai anche Schifo Voglio dire Veramente Nel vero senso Della parola Per cui non ti guardi Neanche più Allo specchio Perché A parte che Era anche fatica A stare Nello specchio E mi ricordo Come adesso il giorno Il 28 novembre Come ero vestito E tutto Ma che ho preso Alla mattina E ho detto Mi devo iscrivere in palestra E così è iniziato Il mio percorso Diciamo E quella mattina Sono andato in palestra Cioè Quando mi sono presentato lì Per fare l'iscrizione Cioè La testa Ecco Veramente Io non so spiegare Cos'è stato Mi sono iscritto E da lì Iniziato il mio percorso Con cadute Sono sollevato Dimagrito Ricadute Però Non ho mai Ho sempre cercato Di pensare A un futuro A dire Però prima o poi Ce la devo fare Voglio dire Ce la devo fare Penso di essere Arrivato a un buon punto Ecco Direi proprio di sì E questo è chiaramente Qualcuno all'ascolto Lo immaginerà È un terreno Molto scivoloso Molto delicato Quello che abbiamo affrontato In questo momento Perché c'è tutto un discorso Legato all'aspetto fisico A tutto quello che riguarda Gli atteggiamenti Anche degli altri Tutto nel quale Noi non vorremmo entrare Perché quello che vorremmo Sottolineare È la forza Di Enrico Tiberi A un certo punto Come l'ha raccontato lui Un secondo fa Decidere che così Non aveva più voglia Di andare avanti Per cui Era ora di dare Di fare un cambiamento Questo cambiamento L'ha portato Tra l'altro Verso una direzione Che è quella Dello sport Non proprio fatto solo Per il mantenimento Ma dello sport Anche con obiettivi Importanti E l'ha portato Appunto Piano piano Perché ci sono voluti Un po' di anni Tanti anni Ci sono voluti tanti anni E questo è ancora di più A suo merito Perché quando una cosa Arriva subito Diciamo in qualche modo È più facile Ma se ci vuole tanto tempo Vuol dire che ci vuole Anche una costanza Una grinta Una perseveranza Molto molto forte Però evidentemente Il percorso Già ti piaceva Perché io sono convinto Che l'obiettivo È importante Da porsi Ma se non piace Anche il percorso È chiaro che queste cose Si abbandonano Strada facendo Io Paolo Penso che Per certe cose Uno ci deve nascere Deve essere portato Diciamo che A me le cose Diciamo semplici Non sono mai piaciute Per cui Ogni percorso Anche quello Dell'Everesting Mi è piaciuto Perché era difficile Perché sapevo Che ci voleva tanto Tante ore D'allenamento Tante ore Di solitudine Tante ore Dove Conosci prima Te stesso Iniziare Proprio un lavoro Mentale Con se stessi Che uno Pensa che sia Solo un allenamento Fisico Il fisico Devo dirti Paolo Che dopo un po' Ti abbandona Può essere anche Un professionista Però dopo tante ore Il tuo fisico Io ad esempio L'Everesting a piedi Le ultime due scalate Avevo una gamba Che non C'è zoppicchiavo Perché il tuo fisico Dopo un po' A parte che non ero Neanche preparato Perché ho preparato Quello a piedi In 3-4 mesi Per cui Il mio fisico Non era abituato A una cosa del genere E già sapevo Che potevo Andare avanti E rischiare Un'infiammazione Infatti Le ultime tre ore Sono state Mi sono fermato In discesa Non riuscivo a correre Eppure Lì Ti fermi un attimo Mi sono fermato Psicologicamente Mi sono ricaricato E ho continuato Però Mi sono portato avanti Questo dolore Per un mese Voglio dire Infatti ho preso la bicicletta Perché a correre Non riuscivo più a correre Perché avevo questa infiammazione Alpiriforme Che mi dava Dei grossi problemi Dovuti purtroppo A dei carichi di lavoro Enormi Fatti nel breve tempo Ma questo Paolo A me Non ha mai pesato D'altra parte Se ci pensiamo Cioè Questo tipo di imprese Chiamiamole estreme Non possono prevedere La forma classica Dell'allenamento Non ti puoi allenare Facendolo cinque volte Così Quando lo fai per davvero Lo fai Cioè Se lo fai Lo fai Lo fai nel momento Che lo stai facendo Paolo Fai conto Che prima dell'Everesting A piedi Che ho fatto il 12-13 giugno 15 giorni prima Ne ho fatto il mezzo Everesting 4.448 metri Cioè Però Non puoi fare una preparazione Cioè Pensi che fai in metà Everesting Ma non sai poi Un'altra metà Cosa può succedere C'è sempre Diciamo Anzi Il bello è quello Che non sai mai Cosa c'è dopo Allora guarda Io una volta Proprio parlando Con mio fratello Di questo Il ragionamento è Il senso dell'impresa L'impresa è tale Se prevede anche Il rischio di fallimento Ma è la prima cosa E se non è un'impresa Ma forse il bello è anche quello Esatto Io di tutte le cose Che inizio Ci metto Cioè Metto il punto principale Che posso Sbagliare Cioè È È una cosa Che può succedere Tranquillamente Ma la cosa Sono sicuro Posso cadere Ma ci riproverò Tempo Magari un anno Ma ero sicuro Che anche in bicicletta Quando sono partito Quella notte Del 12 Scusa Del 3 ottobre Quella sera Io ero partito Con l'idea Gli 8.848 metri Sarei sicuramente Riuscito a farli Cioè io Nella Nella mia mente Non mi ero allenato Tutte quelle ore Ho fatto anche persino 10 scalate da solo Di notte Che non sapeva nessuno Sapeva solo La mia ragazza Per dire Ma io ero sicuro Di fare 8.848 metri Ma non ero Forse neanche sicuro Di arrivare a 10.000 Però era il mio obiettivo I 10.000 Perché Chi mi conosceva veramente I miei amici Lo sapevano già Che il mio obiettivo Era i 10.000 Ma io non l'avevo detto Mai con nessuno Che l'obiettivo Era i 10.000 Perché 848 metri Ero sicuro Di fare Allora guarda Abbiamo 4 minuti Per dire due cose La prima E appunto Vi svelo come va a finire Ma lui l'ha già detto Va a finire Che quando io poi Mi preparo Al traguardo Per l'intervista Facciamo tutto quanto Le foto L'intervista E tutto E lui a un certo punto dice Ok però Non fatemi raffreddare Perché devo tornare giù Perché dopo Appunto essere appena arrivato A fare gli 8.848 Devo fare i 10.000 Per cui Ha cominciato a smontare tutto Ho finito Tutto quanto Però lui Si è messo avanti e indietro Noi l'abbiamo salutato Siamo andati via E lui ha continuato E ha fatto i 10.000 E questa è già di per sé Una cosa pazzesca Poi se qualcuno Voglia di andare a recuperare Lo speciale Vedrà come stava Stava come adesso Praticamente Dopo 8.848 metri Fatti dalle 9.000 di sera Un evento Come poi Avrei visto Che te e Paolo Organizzato nel minimo Dei dettagli È stata una cosa Veramente fantastica Che ancora Tutta la gente Che è venuta Mi ringrazia Per lo spettacolo Che l'hanno visto Io ti dico Ho avuto solo il merito Di aver fatto Su e giù Per la 22 volte Il restante Tramite Degli miei amici Maurizio Radi Ha creato qualcosa Di veramente Unico E bello Per cui A piedi È stato fantastico In bicicletta È stato veramente Entusiasmante Ecco Cioè Mi manca Lo rifare anche domani Ed è stata Totalmente piena L'organizzazione di Maurizio Che ci ha messo Anche il momento Del pathos Purtroppo Come tutte le cose Abbiamo raccontato prima Non sono che I progetti Vengono sempre bene Ci cade anche E purtroppo Il 27 agosto Quando Veramente La data Leveresting Doveva essere La fine di settembre All'incirca Verso il 21 settembre Che era il mio compleanno Per cui Quella settimana lì Io L'allenamento Era già preparato Per cui Fisicamente Psicologicamente Ero già pronto Per il 22 settembre Iniziava Le settimane di scarico Di iniziare a far meno chilometri Purtroppo Il 27 agosto Nella discesa D'auditore Cadiamo io e Maurizio Io mi rompo una costola Un buco alla trachea L'ospedale di Urbino Mi voleva ricoverare In Ancona Ci sono un paio di foto Qui infatti Mi voleva ricoverare D'urgenza Con le lebulanze In Ancona E poi Io a un certo punto Grazie anche a Maurizio E le sue conoscenze Ho firmato Per ritornare a casa Incosciente Perché Da certificato medico Era il rischio di vita Per questo buco alla trachea Però purtroppo La mia idea Il mio problema Non era il buco alla trachea Era la difficoltà Come potevo tornare Il giorno dopo In bicicletta Il giorno dopo Cioè il momento più brutto È stato veramente Il giorno dopo Ma non per il dolore Alla costola O per le varie Scoriazioni Che mi hanno fatto Ma perché psicologicamente Mi stavo accorgendo La mattina Che forse Il sogno Di fare un Everest In bicicletta Che questo sogno Che era due anni Che ce l'avevo Stava svanendo Un'altra volta Perché Le condizioni Il giorno dopo Erano pessime Veramente pessime Poi a un certo punto Come tante volte ho fatto Mi sono chiuso in me stesso Mia amorosa Era andata a far spese Mi sono chiuso in me stesso Non mi vergogno di dire Di avere anche pianto Come un bambino Perché ho detto No anche questa volta Sono ricaduto Devo ritro Devo trovare in qualche modo La forza per Per ripartire E poi mi è bastato un attimo Come ho detto prima Ripensare tutta la mia vita E ho detto No ma un incidente Non può fermare Non mi posso fermare Non mi sono fermato prima Assolutamente E il giorno dopo Contro il parere dei medici Ero sopra i rulli Nel garage A fare La bicicletta Dopo una settimana Mi hanno visto Sulla salita d'auditore A pubblicare le foto Del sotto il cartello Auditore Che ormai tutto il mondo Ha visto quel cartello Auditore Mi hanno visto Dopo una settimana Che nessuno credeva Che dopo una settimana Ero lì Devo dirti Paolo però Ho sofferto Io poi l'ho raccontato Dopo l'everesting Ho sofferto Per i primi 20 giorni Penso che non lo si augura Nessuno Ho dormito nel divano Perché nel letto Non riuscivo a dormire Mi amoroso si accorgeva Che stavo veramente male Però io stavo zitto Dicevo No va tutto bene Non sento il dolore Alla costa Non è niente Non è niente Invece Paolo È stata veramente dura Cioè per i primi 20 giorni Dormire nel divano Mi svegliavo le tre di notte Facevo colazione Partivo le 5 del mattino Ma non perché Volevo allenarmi Ma perché Tanto dormire Non riuscivo Il dolore c'era Però gli obiettivi Erano altri Per cui Sicuramente la caduta Non doveva fermare L'impresa E non è stato così La caduta Non ha fermato l'impresa È stato uno spettacolo Allora devi sapere Che questa trasmissione È alla terza settimana Nelle prime due settimane Avevamo un'ora Da oggi abbiamo un'ora e un quarto Solo che abbiamo passato Anche l'ora e un quarto Mannaggia Un flash proprio di un secondo Hai già un progetto Basta che mi dici Solo sì o no Anche se Non lo vuoi anticipare Magari per scaramanzia Allora Se devo dire la verità Un progetto Ce l'ho in mente Ma ci vogliono ancora Paolo diversi Anche anni Forse Per prepararlo Perché Ho veramente un progetto Grosso in testa Però Non posso chiedere tanto Il mio fisico Per cui ci vuole anche Anche altri anni Diciamo D'allenamento E poi anche Oltre allenamento Preparare tutto Quello che Ci gira attorno Come puoi aver visto Paolo Per cui Non sarà il prossimo anno Il 2021 Il 2021 Il mio progetto Se devo dire la verità Paolo È quello di portare Mia Morosa a giugno Appena Lo Stelvio aprirà A far scalare lo Stelvio Visto che lei è un mese Che ha iniziato in bicicletta Adesso il mio obiettivo Diciamo per quest'anno È portare Mia Morosa A scalare lo Stelvio Appena che riusciamo A giugno Penso di farlo Tre quattro volte Io lo Stelvio È una di queste scalate Mi piacerebbe Farla con lei Perché per me sarebbe Un'altra vittoria Se non è mia direttamente Di essere stato io L'artefice Se hai la possibilità Di documentarla in video E poi di venire qui A raccontarcela Ti accoglieremo Molto volentieri È stato con noi Enrico Tiberi Atleta e recordman Ma oggi A Casa Rossini C'erano anche Federico Florio Del Garden Center Florio E poi intervistato Da Emanuela Rossi Il segretario provinciale Della CNA Moreno Bordoni Grazie per essere stati con noi Seguiteci O in diretta Il lunedì Mercoledì e venerdì O nelle numerose repliche Che ci sono Durante la giornata Oggi stesso per esempio Saremo in replica Sia alle 16 Che alle 22 Domani alle 15 E poi la domenica La maratona Casa Rossini Per tutto il pomeriggio Grazie ancora E appuntamento Alle prossime puntate E restate sempre In visione Dei programmi Di Rossini TV Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti